Buonasera, mi chiamo Alessandro Palmarini, sono un amministratore di condominio di Roma. La scelta del gestionale Tueppi è stata determinata dal fatto che la struttura aveva la necessità di poter gestire in maniera sicuramente più funzionale e più corretta l'enorme afflusso di comunicazioni e-mail che avvengono tutti i giorni da parte dei nostri clienti e da parte dei nostri fornitori. Il gestionale è sicuramente interessante, è in cloud, di facile utilizzo e il personale di Tueppi ci ha messo subito nelle condizioni con la formazione costante di poter essere indubbiamente subito operativi e di poter gestire al meglio quelli che sono i processi della nostra attività. Il gestionale è un prodotto che comunque è in crescendo, va adattato in base alle proprie esigenze e permette di sicuramente snellire e creare dei processi di semplificazione della mole di gestione di comunicazioni e-mail. Personalmente l'avvento di questo strumento all'interno della mia struttura mi ha fatto abbandonare uno strumento che utilizzavo da 15 anni che era il dispositivo di BlackBerry perché l'applicazione di Tueppi che è installata sia su dispositivi Android che su dispositivi iPhone consente comunque di avere le maggiori caratteristiche del gestionale sempre con sé ovunque si trovi. Grazie e buonasera.